Ciao, sono Fabio e cari amici di VeganOK, oggi vi voglio preparare dei biscotti di pasta frolla vegani quindi, al profumo di cannella, limone e cocco. Passiamo subito agli ingredienti. 300 g di farina di tipo 2, 100 g di zucchero grezzo di canna, 8 g di lievito istantaneo, mezzo cucchiaio di cannella, della farina di cocco, mezzo limone, di cui utilizzeremo poi la relativa scorsa, un pizzico di sale, 100 ml di acqua, 100 ml di olio, di semi. Abbiamo unito tutti gli ingredienti in polvere e a parte prepareremo il composto di polvere, di cocco e scorsa di limone, che aggiungeremo all'impasto in polvere. Abbiamo ridotto in polvere il composto di cocco e limone. Passiamo con gli ingredienti liquidi, il succo del limone e poi l'olio e amalgamiamo tutto quanto, fino a creare un impasto morbido, liscio, compatto, senza grumi. Mettiamo un po' di farina per non farlo attaccare. Ecco qui, dopo che la nostra pasta frolla, l'avrà riposata nel frigorifero, io ho acceso il forno, perché per la cottura ci vuole il forno ben riscaldato a 170 g di circa, e ho preparato il tegame già infarinato. Lo spessore, non vi consiglio di farlo troppo sottile, a meno di un centimetro. Andiamo a fare le stelle. Adesso mettiamo i nostri biscotti nel tegame. Grazie.